Allora, con cose scandalose, possiamo uscire da questa situazione? Fallo pure! Scansi e Giannini, chiusiamo questa pagina con un commento e poi torniamo, perché io voglio la prossima settimana chiarire bene cosa si nasconde dietro a quel dato. Perché può essere che il territorio sia vasto, tutto quello che volete, però credo che un paese normale, insomma, dopo un anno, eccetera, quel dato grida vendetta, 1843 richieste, 353, lo scopriremo, magari è un errore del dettaglio, lì, del dato, lo scopriremo. Scansi, perché il freddo è arrivato. A proposito di quei dati, due settimane fa il capo della protezione civile Borrelli ha elencato tre criticità, se sbaglio il sindaco Pirozzi me lo farà notare e anche Ricci. La prima, le case con danni lievi, quelli con la lettera B, in larga parte non sono state aggiustate fino in fondo. Secondo problema, l'80% entro il fine anno delle casette deve essere consegnato, siamo al 30%. Terzo problema, l'accumulo di macerie, in tutto sono 2 milioni e 400 mila, sono 400 mila e basta quelle che sono state liberate. Le altre, si dice, perché sono in zone private, sono comunque sempre lì. Queste sono tre criticità che ci sono, lo dico tanto a centro-sinistra quanto a centro-destra. Mi permetto solo di dirle Ricci, con grande garbo, perché so che è una situazione difficile per lei, come per la di Girolamo, come per Pirozzi. Quando lei ha criticato Pirozzi dicendo che fa campagna elettorale o non si dovrebbe fare campagna elettorale, lei ha ragione. Ma hanno ragione anche quelli che le dovrebbero far notare e lo hanno fatto, per esempio i comitati terremotati. Quando organizzate la Leopolda e il commissario straordinario De Micheli dice ai suoi, tutto sta tornando nella normalità, va tutto bene, nessun governo è stato bravo come il nostro. E il comitato terremotati vi risponde, potete fare tutto ma non prendeteci per i fondelli. Ecco, non prendete per il culo gli italiani. Almeno questo è il primo intervento. Ricci al volo perché devo passare un'altra pagina. Ricci, prego.